Non si può trovare situazione migliore per meditare di un volo ad alta quota. Più si sta in alto, più facile è meditare. Per questo, da secoli, chi medita si trasferisce sull'Himalaya per trovarsi ad alta quota. Quando la forza di gravità diminuisce e si è lontani dal livello terrestre, diminuiscono gran parte delle attrazioni terrestri. Sei lontano dalla società corrotta creata dall'uomo. Sei circondato dalle nubi e dalle stelle e dalla luna e dal sole e dallo spazio sconfinato. Per cui fai una cosa. Inizia a sentirti unito a questo spazio e opera in tre stati. Come primo passo, per alcuni minuti immagina di espanderti fino a riempire l'intero aeroplano. Secondo passo, senti che ti stai espandendo ancora di più. Sei più grande dell'aereo stesso. Di fatto, ora, l'aereoplano è dentro di te. Terzo passo, ora senti di espanderti nella totalità del cielo. Ora le nuvole che corrono nel cielo e la luna e le stelle, tutto sta fluendo dentro di te. Tu sei sconfinato, infinito. Questa percezione diventerà la tua meditazione e ti sentirai completamente rilassato e privo di tensioni. La meditazione non è un viaggio nello spazio né un viaggio nel tempo. Non risveglio istantaneo. Grazie. Grazie.